...per portare avanti un discorso che è stato condiviso di associare la cultura alla riflessione su tematiche solidamente contemporanee. A volte la cultura e quello che è la contemporaneità e lo studio giuridico e lo studio della normativa sembrano essere cose distanti. In realtà sono molto, molto vicine. Senza la conoscenza del percorso storico è difficile oggi avere un quadro preciso di quello che è la contemporaneità. La donna è la protagonista di questo incontro e di questo convegno. Scriveva a Seneca che la donna è il ricettacolo della virtù della civiltà. Forse è per questo che dall'antichità ad oggi violentare la donna vuol dire appropriarsi di quella civiltà e di quella virtù. Dallo stupro religioso di 2500 anni fa fino a tutto il percorso della storia, la donna violentata, la donna assoggettata, è un simbolo di una presa di potere. Sono passati più di 2000 anni di un lungo percorso che ha portato pian piano all'emancipazione, un percorso che dura tutt'oggi. Se basta pensare a quei film, quelli sui romanzi di Guareschi con Don Camillo che si meraviglia di vedere una donna in calzoni che fa attività politica, parliamo degli anni 50, parliamo di dopo la guerra, parliamo di un percorso che dovrebbe essere già arrivato a compimento ma non lo è. E' per questo che questa sera, partendo da un'opera letteraria, si è voluto creare un convegno che rifletta ancora oggi sul ruolo della donna nella società e sulle problematiche che ci sono ancora per arrivare a una vera e propria parificazione. La guerra alle donne non è mai finita, è dura tutt'ora. Con il nostro piccolo supporto di Centro Studi, e ringrazio il Presidente Avvocato Antone di Parlamentaria, Antonio Fanuele, Presidente di Criticalia, Marco De Bonis che ha aiutato l'organizzazione di questo convegno, cerchiamo di aggiungere un piccolo tassello a una ricerca che dura e deve essere viva. Parlavamo prima, è un peccato vedere quasi tutte donne, perché questo è un tema che dovrebbe toccare molto gli uomini, più che le donne che forse ben sanno quali sono le difficoltà. Non sta comunque a me, ma alla platea che c'è qui accanto a me, e passo subito la parola a Enrica Verlini che modererà il convegno di questa sera. Grazie Enrica. Grazie a tutti, do il benvenuto a tutti i presenti, mi rendo conto che il tempo inclemente non ci sta aiutando. avevamo un numero di prenotazioni grandissimo, ho dovuto purtroppo rispondere negativamente a tanti, spiegando che in questa sala c'è un accesso limitato e regolato e non ci sono elasticità di nessun tipo a riguardo. Mi auguro che qualcuno, ho visto giù all'inizio già in attesa fervida un'avvocata che si era messa in lista di attesa fisicamente, tanto era l'interesse per partecipare a questo incontro. Sono stata quasi commossa, devo dire, da questa risposta così entusiasta. Rilevo anche io che è stata una risposta che quasi esclusivamente però ha coinvolto donne, per l'appunto. donne che già ben conoscono e vivono tutte le problematiche relative ad una pari opportunità non pienamente espressa, evidentemente. però ci auguriamo che comunque questo sia un altro seme di conoscenza, che possa dare comunque spazio ad un dibattito che certamente avrà seguito anche al di fuori di questa sala. Sono molto breve perché vorrei subito introdurvi Michela Ponzani, che ci ha proprio dato l'idea di fare un convegno di questo genere. Quando è uscito il suo libro Guerra alle donne, nel cui sottotitolo c'è scritto Partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico, dal 40 al 45, quindi è una storicizzazione molto chiara. Ma questo titolo rimanda ad un ecco maggiore, cioè in qualche modo ha risvegliato, come dire, una corrispondenza ad una realtà che va al di fuori della storicità del periodo di guerra, per l'appunto. E da qui è venuta l'idea di dare a questo convegno un titolo del genere, perché la guerra alle donne non è mai finita, anche secondo noi. Michela Ponzani ha scritto questo libro, ma in realtà è una storica ricercatrice, ha avuto il dottorato in storia contemporanea dell'Università di Firenze, è molto attiva nelle pubblicazioni che riguardano tematiche legate, ripeto, al periodo storico dell'ultima guerra, al periodo del mondo partigiano. In una persona assolutamente giovane, un interesse di questo genere, una profondità di analisi ha tanto più motivo di essere apprezzata. E io lascio subito la parola a Michela. Allora, grazie di questo invito, anzitutto, che mi dà la possibilità di affrontare un tema a me molto caro, che è quello della violenza alle donne, un tema che ho deciso di consacrare questo mio libro, uno studio approfondito sulle tematiche di violenza alle donne durante i conflitti armati. Il mio libro si intitola Guerra alle donne e il titolo non è casuale. Non donne in guerra, non semplicemente donne alla guerra, ma tentativo di capire qual è stata la cultura maschile militare che durante il secondo conflitto mondiale, in particolare dal 40 al 1945, ha segnato l'esperienza delle donne in guerra. L'idea di scrivere questo libro nasce da una sollecitazione del presente, cioè dal bisogno, a mio giudizio, che c'era nella storiografia, ma anche nel dibattito contemporaneo, di tornare a riflettere sulle violenze contro i civili durante i conflitti armati e in particolare delle violenze nei confronti delle donne, che in guerra diventano il vero e proprio bersaglio strategico della guerra ai civili. Donne rimaste sole, con i mariti dispersi, deportati, mandati a combattere in terre lontane, deportati nei campi di internamento o di sterminio, donne che adottano diverse strategie di sopravvivenza nel quotidiano e talvolta si impegnano anche in una resistenza senza armi per garantire la sopravvivenza di se stesse e la sopravvivenza dei figli. Attraverso le memorie taciute, attraverso il rimosso della memoria, attraverso dei racconti, lettere, diari, stralci di testimonianza, interviste che erano un po' rimasti nel dimenticatoio della storiografia ufficiale, ho voluto ricostruire questo quadro storico e quindi ritrovare in quel quadro storico una traccia per illuminare il presente contemporaneo in cui viviamo. E dunque volevo interrogarmi anzitutto sul concetto e la legittimità della cosiddetta guerra giusta, una guerra in cui per tradizione i civili sono esposti ai contraccolpi della violenza indiscriminata e massiccia utilizzata da parte delle truppe militari occupanti, ma anche ragionare sull'uso e la strategia della forza militare e sullo stupro come arma di guerra, come una vera e propria arma di guerra utilizzata dagli eserciti occupanti per annichilire, fiaccare e per spegnere lo spirito di resistenza delle popolazioni civili che vivono su un territorio militarmente occupato. Nel secondo conflitto mondiale, durante il periodo dell'occupazione tedesca di questo Paese, dall'8 settembre del 43 al 45 certo, ma anche prima, fin dalla dichiarazione di entrata in guerra, dell'Italia, a fianco della Germania nazionalsocialista, le donne scontano questo uso della violenza da parte delle truppe militari e a un certo punto, come ci rimandano le lettere, le testimonianze, le memorie scritte di donne che hanno vissuto quei traumi di guerra e che attraverso la scrittura tornano a rielaborare questi traumi di guerra, ecco, le donne si ribellano a questa cultura della violenza. Io ho deciso di mettere una frase all'inizio del mio libro molto, che io considero assolutamente emblematica di questo spirito di resistenza e di ribellione alla cultura maschile militare della violenza, e cioè una frase dei gruppi di difesa della donna, le associazioni messe su dai partiti antifascisti durante il periodo dell'occupazione tedesca, quindi dai CLN, organizzate dai CLN in cui le donne entrano a far parte per garantire l'assistenza ai partigiani saliti in montagna, il sostentamento alimentare, l'organizzazione logistica, tutte le attività di tipo informativo politico di cui si ha la necessità in una guerra di guerriglia clandestina alla macchia come quella che si combatte sul territorio italiano. Ecco, ho scelto proprio questa frase per illustrare forse meglio di altre questo spirito di resistenza. Questa frase dice così, vado a memoria perché ovviamente me la ricordo molto bene, dice le donne rivendicano il diritto di disporre della loro sorte, chi dice che il posto della donna è nella casa tradisce e mente, le case crollano e il fatto che la donna sia l'angelo del focolare non lo può impedire. In questa frase c'è un mondo di ribellione, il mondo di ribellione delle donne che decidono, sia giunto il momento, di dare una risposta definitiva, risoluta e forte alla violenza del fascismo, del regime fascista e poi alla violenza militare dell'occupante tedesco, ma anche di ribellarsi a quella cultura che avevano conosciuto fin dalla prima infanzia alla scuola dell'Italia degli anni trenta, alla scuola del culto del littorio. Le donne si ribellano alla cultura patriarcale che le costringe, soprattutto in determinati contesti socio-familiari rurali, ad abbandonare presto gli studi. Ci sono lettere, testimonianze molto forti in questo senso di donne che raccontano di essere arrivate all'antifascismo e alla decisione di imbracciare le armi contro il fascismo, proprio da questo senso di oppressione, questa voglia di riscatto, di ribellione che provavano rispetto a chi diceva loro che la donna era un essere intellettualmente inferiore, non razionale, un essere che avrebbe potuto anche tralasciare gli studi per lasciare spazio agli elementi maschili all'interno della famiglia che infatti sono coloro che vengono istradati alla cultura a diversi livelli. Ma le donne si ribellano anche alla cultura dell'assuggettamento che è tipica ovviamente del regime fascista, ma che in quegli anni, negli anni 30 e 40, viene fortemente avallata anche dalla Chiesa Cattolica, con espliciti riferimenti da parte delle due encicliche che vengono emanate da Pio XI a proposito della condanna della scuola mista e della necessità di garantire un ordine gerarchico all'interno della famiglia e quindi all'interno della società. Nell'enciclica Castico Nubi del 1930, ciclica emanata da Pio XI, si dice esplicitamente che il compito nobilissimo della sposa e della madre è quello di non mettere in discussione l'equilibrio che c'è all'interno della famiglia e quindi di essere assoggettata alla potestà malitale esattamente come la Chiesa è assoggettata al Cristo. Questo sistema di valori è un sistema in cui crescono le bambine durante le future antifasciste, le future partigiane e questo è un sistema culturale che segna ad un certo punto l'ingresso e l'accesso all'antifascismo per molte di esse. Dunque una storia che ci aiuta a capire il nostro presente. L'uso della violenza sessuale nei conflitti armati come arma di guerra non è frutto di un semplice istinto individuale da parte di soldati che rimangono senza occasioni di incontro e quindi una sorta di sentimento individuale. È un vero e proprio strumento, un'arma militare, una strategia bellica e così è per le truppe tedesche che occupano il territorio tra il 43 e il 45. L'uso dello stupro è complementare ad altre forme, ad altri crimini che le truppe tedesche mettono in atto nella loro guerra terroristica di tipo preventivo e intimidatorio sul territorio italiano. Una guerra terroristica che mira a spezzare il legame che esiste o potrebbe esistere sul territorio tra le formazioni partigiane armate e le popolazioni civili. Una strategia che vuole spargere il terrore, che mira a terrorizzare la popolazione civile con le rappresaglie, i rastrellamenti, le case bruciate, la distruzione integrale dell'habitat dove i civili vivono, con l'uso della tortura sui corpi dei prigionieri politici, con l'affissione dei corpi degli uccisi sulla pubblica piazza a monito della popolazione civile e con lo stupro alle donne. Lo stupro è un'arma che si utilizza per reiterare in un altro modo, secondo altre modalità simboliche, rituali anche, quella che è la violenza sui civili nel territorio italiano. Ora, di questi crimini per lungo tempo nel nostro Paese non si è parlato, almeno fino alla seconda metà degli anni 90, quando grazie alla scoperta, potremmo dire così, del cosiddetto armadio della vergogna e cioè di quel corpus documentario fatto di tanti fascicoli processuali, circa 695 fascicoli processuali che avrebbero dovuto essere inoltrati alle procure militari di competenza affinché i processi per crimini di guerra fossero celebrati, almeno fino alla seconda metà degli anni 90, questo tema delle violenze contro i civili nei conflitti armati è stato quasi completamente rimosso dalla memoria nazionale per diventare una sorta di patrimonio delle popolazioni locali che erano state colpite da questi massacri o dalle associazioni dei familiari delle vittime. Non è un caso che soltanto dopo il crollo del muro di Berlino, a partire da quel periodo di transizione che inizia dall'89 e che si conclude nel 91 con la riunificazione delle due Germanie, noi non abbiamo potuto assistere ad un dibattito pubblico su queste tematiche. Non è un caso ancora che la maggior parte delle memorie di donne scritte a proposito di quei traumi di guerra siano frutto delle influenze che un'altra guerra ha avuto sulla loro memoria. Il mio libro parte proprio da queste memorie, memorie scritte negli anni 90, nel 1990 al ridosso della guerra in Iraq, quindi un'altra guerra che induce le donne ad uscire dal silenzio, a rompere le gabbie della memoria, a riprendere il discorso di vecchi traumi non elaborati perché finalmente forse lì fuori c'è qualcuno disposto ad ascoltare. C'è una società che ha rotto i margini di quella memoria pubblica fondata sulla pacificazione tra vincitori e vinti ed è giunto il momento di cominciare a parlare di questi crimini di guerra. Non è un caso che proprio nel 1992 la regista Elke Sander presentasse al Festival del Cinema Internazionale di Berlino un documentario molto forte dedicato agli stupri di massa compiuti dalle truppe dell'Armata Rossa contro le donne tedesche in una Germania rasa al suolo dai bombardamenti a tappeto. Dunque il cammino che la cultura giuridica, che il diritto internazionale ha compiuto nell'arrivare a definire lo stupro come un crimine di guerra e poi come un crimine contro l'umanità, nel processo di Norimberga che si apre dopo la seconda guerra mondiale e anche nei due processi che si celebrano in Italia contro i due maggiori responsabili di crimini di guerra, contro Herbert Kappler per il massacro delle fosse Ardiatine, contro il maggiore Walter Röder per il massacro di Marzabotto, Montesole, dove le vittime sono circa 770 persone, tutti civili tra donne e bambini, lo stupro in questi processi non viene assolutamente preso in considerazione, non viene contemplato sebbene vi siano donne che vadano a testimoniare e che si recano dinanzi ai tribunali militari per testimoniare delle violenze che hanno subito, violenze strategiche, violenze utilizzate nella guerra al terrore che i tedeschi hanno messo in atto sul territorio italiano. C'è una testimonianza in particolare che io ho riportato nel libro, mi ha molto colpito, mi colpì dal suo ritrovamento, quando la ritrovai all'archivio della memoria delle donne di Bologna. È la testimonianza di una donna con il marito deportato in Germania, rimasta sola con il cognato e con i due figli piccoli, che subisce uno stupro da parte di 5 militari tedeschi durante i giorni che seguono il massacro di Marzapotto Montesole, quindi per capirci il periodo che va dai giorni che vanno dal 30 settembre al 5 ottobre del 1944. In questi giorni, lungo questo asso di tempo, le truppe tedesche circondano il territorio, tutti i paesi dislocati intorno al Montesole, con una mossa militare strategica a Tenaglia, circondano il territorio, radunano le donne e i bambini nelle chiese e li massacrano per giorni e giorni. Durante questo periodo, una di queste persone, questa donna, subisce lo stupro e il suo racconto è particolarmente drammatico, perché la si sofferma su un particolare, oltre ovviamente a linguaggio assolutamente evasivo, per cui il termine stupro non è mai utilizzato, ma si utilizzano altre locuzioni per descrivere la violenza che si subisce. Bene, questa donna il giorno dopo vede arrivare da lontano, dalla finestra di casa sua, di nuovo, queste truppe che la vanno a cercare per abusare nuovamente di lei e per portarla nei campi bordello che hanno costruito lungo la linea del fronte, dove di giorno le donne scampate al massacro nazista vengono impiegate in lavori di pulizia o in attività di sostentamento alimentare per i generali che si riposano dalla guerra e di notte vengono utilizzate invece come schiave sessuali. Questa donna vede arrivare i militari dalla finestra e scappa, si va a nascondere nel bosco. Ma i militari capiscono che la donna è fuggita e arrivati in casa minacciano il cognato e il parroco del paese che in quel momento si trova in quell'abitazione di andarla a cercare perché altrimenti uccideranno tutti i componenti della famiglia. Questi due uomini la vanno a cercare e il momento più drammatico di questa testimonianza è proprio questo, quando questa donna anonima ovviamente racconta del momento in cui il parroco e il cognato la convincono a tornare indietro per sottomettersi alla violenza e la ricorda le parole del parroco, questo parroco che le dice ti prego figlia mia ritorna indietro mettiti nelle mani di Dio e lei ovviamente dice io non ero nelle mani di Dio, ero nelle mani di criminali, non so nemmeno come definirli e poi mi buttarono su come a buttare una cosa e poi fui di quella storia lì per ore e ore. Non c'è mai ovviamente un riferimento esplicito alla violenza subita anche e soprattutto per la difficoltà della vittima di un abuso sessuale di elaborare il trauma e la violenza anche attraverso l'uso del linguaggio. In questo soccorre la scrittura, in questo la scrittura, la memoria scritta è un aiuto e non è un caso che le donne ritornino a raccontare queste violenze in anni recenti perché finalmente qualcuno le vuole ascoltare, non sono stati certamente i loro compagni e i loro mariti che una volta ritornati a casa dai fronti di guerra hanno voluto mettere a tacere queste esperienze drammatiche. Un'altra delle testimoni dice quando mio marito ritornò a casa era uno sconosciuto per me e la mia vera guerra iniziò da quell'istante perché segnò il suo destino e il suo. Sono famiglie che non si possono ricomporre, sono storie che non possono andare avanti perché gli uomini vogliono mettere a tacere, tu hai vissuto la tua guerra, io ho vissuto la mia, da questo momento non parliamone più e dunque cala l'oblio, cala la dimenticanza all'interno delle famiglie e nella società italiana perché quelli sono gli anni in cui l'Italia li costruisce se stessa attraverso l'oblio dei crimini di guerra per ragioni internazionali ovviamente non si possono celebrare i processi contro i criminali di guerra nazisti perché la nuova Italia democratica è diventata nel frattempo alleata della nuova Germania democratica nell'alleanza atlantica e perché ricordare lo stupro può significare anche una disarticolazione della comunità nazionale in un momento particolarmente delicato come quello della transizione post bellica in cui c'è bisogno di riunire il paese, di pacificarlo e la pacificazione avviene attraverso l'oblio e la dimenticanza. Dunque su queste cose io volevo ragionare con questo mio lavoro sul sommerso, sul taciuto della memoria, sulla necessità di ricordare non per un esercizio retorico ma per trovare nel passato una traccia che possa aiutarci ad illuminare il presente a fare i conti con la nostra storia, a fare i conti con il nostro passato, con un passato segnato da violenze che ha un nome ben preciso e che si riferisce al regime fascista perché molte sono le testimonianze anche di donne partigiane rinchiuse nelle caserme, nelle camere di tortura dei militi della Repubblica sociale italiana che tornano a raccontare dell'uso simbolico dello stupro durante gli interrogatori, durante le torture, non tanto per avere i nomi degli altri componenti delle formazioni partigiane ma per punire la scelta di ribellione, di emancipazione che le donne hanno voluto anche attraverso l'uso delle armi e la scelta dolorosa e carica di responsabilità di entrare nella guerra partigiana. Io per ora mi fermo qui e magari con le sollecitazioni degli altri colleghi posso intervenire. Grazie a Michela Ponzani. Siamo calati in un'atmosfera molto densa di argomenti importanti e abbiamo visto quindi lo stupro come arma di guerra che tuttora ai nostri giorni viene usato in questo momento. C'è stato un cammino della giurisprudenza dicevamo e chiederò proprio all'avvocato d'Antoni, presidente di parlamentaria e persona molto sensibile a questi argomenti di darci la sua testimonianza. Grazie a tutti voi, grazie per la vostra presenza, grazie per l'autrice del libro che ha voluto con la sua testimonianza scritta riportarci non al passato ma al presente. Purtroppo è mea al presente e vedremo in queste poche parole che poi le cose non sono così cambiate molto e la drammaticità sta proprio in questo. Sta ad esempio nell'aula di oggi che è piena di donne e pochi uomini, sta in convegni organizzati, ne parlavo prima con gli amici che sono qui con me, ad esempio sui reati di stalking e di violenza e in chi ti avvicina e ti dice ma hai organizzato un convegno ma sei stato troppo crudo, troppo diretto nelle cose che hai detto, quindi nella necessità sempre comunque di attenuare, di annacquare un argomento che invece ha in sé dei lineamenti di drammaticità che fa comodo nascondere a tutti noi, in particolar modo agli uomini. Seguirò una traccia, con questo poi mi auguro che possa diventare un cammino poi di dialogo dopo perché l'idea di questi convegni è poi che ne vengano fuori anche delle proposte, che siano poi degli spunti, dei punti di partenza perché non debba rimanere sempre tutto così. Abbiamo visto prima che nelle situazioni di guerra da sempre abusare delle donne è stato considerato una ricompensa dei soldati ma anche un vero e proprio metodo di combattimento perché si voleva violare la resistenza psicologica della popolazione oltre che degli eserciti, quindi la violenza alla donna come strumento di combattimento. Però dobbiamo aspettare, pensate un po', solo il 2008 le Nazioni Unite hanno considerato lo stupro tra le armi di guerra, quindi l'altro giorno praticamente. Casi di stupri si registrano ancora oggi, in Siria le Nazioni Unite stanno registrando in questi giorni decine e centinaia di donne violentate e stuprate di cui ancora oggi non si parla. Il Darfur, la Cecenia e l'ex Giugoslavia, sappiamo poco di quello che è accaduto. Personalmente ho svolto, per motivi di lavoro, sono stato in Serbia, in Repubblica Serbska e ho attraversato con un viaggio in diversi giorni quei territori e nei dialoghi con le popolazioni, con le persone, c'era proprio questo silenzio, questa nebbia di cui non si poteva parlare, perché lì i segni delle violenze usate come strumento proprio di combattimento? Era una scelta quella di violentare sui confini tra Serbia e alle porte di Seraievo è una cosa di cui nessuno parla, ma ci sono migliaia di violenze che non sono state solo le morti che abbiamo dovuto registrare. Certo che si parla però di stupro anche in luoghi e in momenti di pace, ahimè. E tutto questo nasce da un contesto purtroppo culturale e sociale che continua ad essere accettato, tollerato, giustificato e impunito. È quello che si dice, se si parla proprio di una cultura dello stupro che non è mai morta. Ricordiamoci che in Italia fino al 1996 il reato era considerato non un reato contro la persona, ma un reato morale contro il pubblico. Cioè io sto facendo violenza non a te, ma faccio violenza a ciò a cui tu appartieni, che la comunità. È una cosa gravissima. Per arrivare a questa cosa abbiamo dovuto aspettare fino al 1996. Se voi andate a guardare il cammino parlamentare di questa norma, è sofferto. Stiamo parlando di cinque legislature che non hanno dato alcun tipo di significato, di lotte incredibili all'interno del Parlamento, di Camera e di Senato, perché questo provvedimento qui non lo si voleva. Nel mondo 150 milioni di ragazze subiscono ogni anno abusi sessuali. Almeno il 56% di questi abusi viene commesso dai propri familiari. Sono circa 10 milioni all'anno e i matrimoni che vengono celebrati di bambine. L'Ansa qualche giorno fa, un mese fa, ha pubblicato alla Presidenza del Consiglio, ha fatto avere uno studio che prende un spunto da che cosa? Dalle notizie che hanno pubblicato. Da gennaio 2011 a giugno 2012 hanno registrato, su circa 130.000, 3.000 notizie, 3.196 casi di stupro. Vuol dire che ne abbiamo circa 6 al giorno. Ecco perché è straordinario il libro dell'autrice, perché ci dà un filo che non è poi così tanto sottile, che ci lega ai fatti delle nostre nonne, delle cose che non abbiamo mai sentito raccontare in casa. Perché di quelle cose lì non se ne deve parlare. Allora, come oggi, non è cambiato nulla. Roma, nel 2011 le denunce sessuali, le denunce, voi immaginatevi quelle che sono le omesse denunce, sono state 378. 365 per la verità, l'anno prima erano 378. Milano, che è la città da cui io vengo, 425. Cioè più di una violenza al giorno denunciata. ci siamo pure sentiti raccontare da uno dei candidati alle elezioni statunitensi, nei giorni scorsi, che un concepimento nato da una violenza sessuale avviene per volontà di Dio, in televisione durante un dibattito pubblico. Allora, per volontà di Dio. Allora, ecco che la strada è lunga. Ecco che momenti come questi, questo libro, il trovarci a parlarne oggi, diventano veramente una battaglia per noi stessi, per far crescere la nostra umanità che non ha mai fine, che sarà probabilmente lunghissima. Le richieste di aiuto alle forze dell'ordine sono quotidiane. La ragazza che è stata uccisa, che ha tentato di proteggere la sorella con una coltellata alla gola, da mesi aveva sollecitato l'argomento alle forze di pubblica sicurezza. io stesso vi garantisco che come avvocato, sto seguendo due o tre casi proprio in questo periodo, due in particolar modo che mi colpiscono, ho il terrore quando leggo queste notizie sui giornali. Perché se hai per le mani un caso di una persona che continua a telefonarti a me e a dirmi mi è successo questo ieri sera, cinque minuti fa, e poi il tuo dialogo con la magistratura è un dialogo che, nonostante la legge sullo stalking e con l'autorità inquirente, è un dialogo che comunque si scontra contro una cultura maschile. Ve lo garantisco che in quei dialoghi, in quei tentativi di denunce, sono più ve difese che io devo fare dei miei clienti da quella violenza, di quell'atteggiamento lì e tutte le volte mi sento quasi, non voglio dire deriso, ma io ho un caso che un anno di comportamenti che secondo me sono ben oltre quelli dello stalking eppure non riesco a far prendere questa persona qui che è bravissima nel non farsi prendere, anche perché poi devi anche trovare purtroppo il magistrato che ci crede e il poliziotto, il carabinere che ti viene dietro. Paradossalmente se avesse preso la mia cliente e gli avesse rotto un braccio l'avrebbero preso e portato in galera subito. Siccome sta facendo un altro tipo di violenza, questa roba qui... qualche riflessione sul passato. Fra i latini Ovidio nella sua arsa amatoria diceva che la donna amava subire violenza, questa cosa mi ha molto colpito, c'era questa frase, questo broccardo latino che era vis grata puelle. La donna ama essere violentata. Nel codice di Amurabi, ve le leggo per capirle, queste cose qui, che erano i documenti che noi oggi leggiamo come documenti e testi sacri, erano allora documenti giuridici, era sostanzialmente un codice di comportamento. nel codice di Amurabi, mi sono andato a guardare questa cosa, in una delle norme, allora, la vittima dell'aggressione, se era donna sposata, subiva vittima e aggressore, dovevano essere puniti allo stesso modo come adulteri tramite annegamento. Cioè la donna che aveva subito la violenza doveva essere annegata come chi l'aveva violentata. Però, a meno che il marito non la perdonasse se era sposata. Beh, però leggiamoci anche la Bibbia e leggiamoci anche il Deuteronomio. Se una fanciulla vergine fidanzata e un uomo trovandova nella città si sarà giaciuto con lei, siano condotti ambedue fuori dalla porta della città e siano lapidati finché muoiono. La fanciulla perché trovandosi in città non ha gridato e l'uomo perché ha viodato la donna del suo prossimo. Togli così il male di mezzo a te. Oppure, e qui nella Bibbia troviamo la prima traccia di matrimonio riparatore, l'uomo che si sarà giaciuto con la fanciulla deve pagare al padre di lei 50 monete d'argento e ella sia di lui moglie perché egli va disonorata e non potrà mai rimandare via per tutta la sua vita. Questo concetto di matrimonio riparatore, guardate, che è rimasto nel nostro codice fino agli anni Ottanta, esattamente, era concepito come una forma di risarcimento e di tutela della donna perché siccome aveva perduto l'onore non sarebbe più potuta essere, diventare moglie di nessuno. Il nostro codice penale nell'articolo 544 ammetteva, cioè, teneva in gran risalto il matrimonio riparatore come arma che poteva pulire tutto, l'onore della donna e quello dell'uomo che l'aveva violentata. In Italia l'80% delle violenze si consuma all'interno di relazioni intime, non tra sconosciuti. E il 70% dei femminicidi, cioè l'omicidio di una donna, avviene in un contesto in cui i servizi e forze dell'ordine erano già stati preavvertiti del rischio. Purtroppo questo caso di 15 giorni fa ne è l'esempio di questa ragazza che aveva continuamente sollecitato le forze dell'ordine a prendere dei provvedimenti contro questo ragazzo che aveva detto più volte che l'avrebbe ammazzato la sorella. Non ne vogliamo parlare di queste cose, tanto è vero che i dati sulle violenze alle donne sono una sorta di mistero. Se non ci fossero le associazioni che da tanti anni ormai, associazioni ai medi donne, perché gli uomini si guardano bene dal dirle queste cose, che continuano una rilevazione quasi ogni anno purtroppo di quello che sta accadendo, non ci sono delle fonti ufficiali. L'ultima rilevazione che noi abbiamo è Istat 2006. Questo lavoro fatto dall'Ansa di un mese fa ha sconvolto un po' tutti perché ci ha ricordato che praticamente sei casi al giorno di violenza nel nostro Paese accadono, quelli che si sanno, quantomeno. Noi siamo stati anche richiamati in questo perché a settembre di quest'anno c'è stata una delegazione della comunità europea che è venuta in una sorta di ispezione e ci hanno lanciato un monito. Dovete istituire un organismo di controllo e di rilevazione che annualmente, tramite le forze dell'ordine, tramite le associazioni, svolga ad attività di coordinamento dando dei dati ufficiali. Perché o queste cose qui ce le sbattono in faccia in modo concreto, quasi quotidiano, o se no c'è l'Istat del 2006 e poi va bene c'è la notizia del giorno dopo e poi si continua a dimenticare. Manca anche la volontà di conoscere i dati, figuriamoci, di capirli. Allora, il passo successivo, e poi lascio la parola a chi mi precede, mi seguiranno in queste riflessioni, è quello di compiere anche uno sforzo, secondo me, di cultura, magari chi mi accompagna in queste riflessioni può forse non essere d'accordo, ma sia per il caso di violenza sessuale che anche per il caso di stalking, io sono per la procedibilità d'ufficio e non per la querella di parte. E su questo è vero che è un gesto di poca maturità, è un gesto di immaturità perché vuol dire riconoscere che non siamo pronti come a rendere libera una donna di denunciare una violenza. Però se il libro in questo ci ha aiutato a capirlo, anni, anni, centinaia di anni di storia non ci hanno aiutati a crescere in questo, dobbiamo fare qualcosa. Se continueranno ad esserci nelle nostre case denunce non poste di violenza, se le notizie del Paese, delle vie continueranno ad essere cose che non arrivano nelle aule di un magistrato, perché denunciare ancora oggi, andatevi a guardarvi alcune sentenze della Corte di Cassazione, sono pazzesche certe cose che ancora oggi leggiamo. Denunciare una violenza oggi costa quasi quanto o di più che subirla e per poter fare il passo in avanti dobbiamo rendere questo reato, secondo la mia personale opinione, un reato che in presenza di alcune notizie di reato di fatti specie un magistrato non può che procedere, indipendentemente dal fatto che una donna lo denunci o no. Questo vale sia per la violenza fisica che anche per lo stalking. Non siamo maturi, questo è il segnale che non siamo maturi come comunità. Per poterlo fare probabilmente per poter arrivare ad una maturità anche delle denunce sulle violenze e ci deve essere qualcuno che ci accompagna con provvedimenti un pochettino più forti. Questa è la mia opinione personale. Lascio la parola con il desiderio di sentire una vostra opinione a riguardo. Grazie all'Avvocato. Noi adesso daremo la parola all'Avvocata Susana Pisano. Poi a conclusione di questo primo giro cominceremo ad interloquire anche con i presenti e ci saranno sicuramente molte riflessioni da aggiungere. Quindi, dicevamo, questa storia procede ma certe volte sembra che vada indietro o non stiamo sempre andando nella direzione giusta o spiccata. L'Avvocata Pisano, per chi non la conosce, è coordinatrice per le pari opportunità al Consiglio Nazionale Forense, persona molto presente e attiva e sicuramente ci dirà qualcosa di interessante. Grazie a tutti di essere qui. Io ovviamente per prima cosa devo portare il saluto del Consiglio Nazionale Forense, anche perché so che questa platea è fatta in gran parte da colleghi e colleghe e della commissione che coordino, che appunto, essendo la commissione pari opportunità, si occupa tra i tanti anche del tema della violenza sulle donne. Prima di entrare nel vivo dell'argomento e di portare qualche nota positiva, perché la depressione se no su questo argomento ci porta a pensare che non si possa fare niente e vorrei, proprio perché ci sono tanti colleghi, rallegrarmi insieme a voi, perché anche la violenza è un fatto di discriminazione, perché per la prima volta tra ieri e avanti ieri abbiamo ottenuto nella riforma dell'ordinamento forense in corso di approvazione alla Camera, l'inserimento degli emendamenti di genere che la mia commissione va predisposta e va veicolata alla politica non potendoli veicolare dalla professione e sono stati introdotti tutti e se la riforma verrà poi approvata anche dal Senato, i prossimi organismi di rappresentanza dell'avvocatura avranno le quote per la presenza femminile, sia a livello di ordine sia a livello di Consiglio nazionale forense. E altrettanto mi dicono i colleghi, anzi le colleghe della Cassa Forense si sta pensando sulla normativa elettorale della Cassa. Introduco quindi questo argomento che potrebbe sembrare non entrarci nulla, proprio perché è una nota positiva, vuol dire che si può cambiare, cioè tutto questo è avvenuto con la presenza di due sole donne su 26 colleghi al Consiglio nazionale forense. Quindi forse anche poche, ma possiamo fare qualcosa. E per dire che si può cambiare, io entro nel vivo dell'argomento della violenza con la notizia che avrete letto tutti avantieri della sentenza del, tra l'altro voglio dire il pubblico ministero, era una donna e ha chiesto ovviamente l'ergastolo. La terza corte d'assise di Roma preseduta da un'altra donna ha assolto per legittima difesa la moglie che ammazzò. L'ex marito lo buttò nel Tevere, siamo nella città del Tevere. Devo dire che questa è una notizia importantissima perché un riconoscimento pubblico proprio della, come dire, anche postumo vogliamo dire. Succede, lo dico con molta tranquillità, senza tema di essere smentita perché ne sentiamo troppo. Effettivamente stiamo parlando di un problema sommerso. Passando dalla guerra alla pace, come ha fatto il collega, sicuramente questo è un problema che ha un costo sociale altissimo e tutte le colleghe, perché sono tante, che a titolo di volontariato dedicano una parte della propria professione a seguire, cioè entra antiviolenza, sportelli per le donne, eccetera, sanno perfettamente quanto sia difficile affrontarlo. Perché, e vado subito a agganciarmi alla, diciamo, all'assist che mi ha dato il collega D'Antuoni, perché sulla procedibilità di questi reatti, dove peraltro la procedibilità d'ufficio è prevista nei casi di minori, nei casi particolari, quando è stato fatto il provvedimento di allontanamento e poi, diciamo, c'è la recidiva, chiamiamola così, perché violentare la volontà di una donna che ha subito una violenza, sia essa sessuale, fisica, cioè sicuramente lo stupro, diciamo, è il massimo, ma abbiamo veramente delle violenze perpetrate in famiglia per anni e anni e anni che sono quanto uno stupro, non voglio dire, se non di più, perché anzi minano le integrità familiari, figli, parenti, eccetera, e quindi producono poi una serie anche di ricadute sociali non indifferenti. Perché, dicevo, io sono contraria alla procedibilità d'ufficio, ovviamente non sono io, anche legislatore, alla fine lo è stato, perché stiamo parlando di reatti assolutamente infamanti, di reatti che coinvolgono la psicologia delle persone e la coinvolgono distorcendola spesso, è metabolizzare, è, come dire, affrontare l'autocoscienza del proprio vissuto, soprattutto per tutti i casi che si sviluppano in famiglia, che sono la maggior parte, peraltro, perché sono il 67% delle violenze e quindi è degli stupri, quindi voglio dire, e sono quelli più denunciati, badate bene. C'è leggerissima differenza, secondo i dati Istat, tra il sommerso della violenza o dello stupro da estraneo e quello in famiglia, perché normalmente quello in famiglia avviene fuori nel momento patologico, chiaramente, della famiglia e quindi separazioni o cose varie, allontanamenti, alla fine esce fuori piano piano anche il sommerso della violenza. Allora, le donne che subiscono questi fatti, questi crimini, si portano un vissuto che esprimere all'esterno è di una difficoltà enorme, ripeto, chi ha a che fare con loro lo sa perfettamente ed è molto simile, diciamo, a quel vissuto che ci ha raccontato l'autrice del libro per le donne che l'hanno vissuto durante il periodo della guerra. Non è la stessa cosa, la violenza è un furto. Ve lo dico proprio per l'attività che noi stiamo cercando di fare su questo versante, sugli avvocati, ovviamente, e sulle avvocati, in particolar modo che sappiamo avere in questa materia una predominanza di attività rispetto ai nostri colleghi maschi, perché spesso anche coloro che devono seguire tecnicamente questi reatti, non hanno una preparazione adeguata. Questa è la verità, ce lo dobbiamo dire. Sono materie povere, non sono materie che fanno ricchi gli avvocati, sono materie dove l'impegno è anche lì, bisogna capire appunto il perché più le colleghe dei colleghi sono disposti a fare questo, proprio perché vengono da tutto un discorso di impegno sociale, familiare, volontario, coatto, di cui io, che li è abituati a farlo, e pertanto spesso, e devo dire molto spesso, capita che l'affrontare questi temi sia dal punto di vista che tu l'hai accennato, sia dei magistrati, ma anche dei colleghi e delle colleghe, è abbastanza superficiale. Io non credo che gli avvocati debbano fare psicologi o psichiatri, devono fare gli avvocati, però si devono munire di competenze multidisciplinari e trasversali se vogliono fare queste materie, se no vanno a fare altro. È una scelta anche il lavoro che si fa nel nostro campo. E devo dire di più, c'è anche una, come dire, una, non separazione, perché non voglio parlare di separazione, ma diciamo una diffidenza rispetto al mondo del sociale, alle competenze, alle professionalità del sociale da parte dell'avvocatura che nasce anche probabilmente da una certa incomprensione e magari anche da una casistica che ne possa aver generato questa sensazione che non rende facile i rapporti rispetto all'esame dei casi. Quindi noi abbiamo una donna che dopo che subisce violenza finisce in un sistema che va dal sanitario al socioassistenziale al giuridico dove se non ha una, come dire, una cortina di sostegno non è in grado di poter, come dire, liberamente autodeterminarsi. E allora, se noi rendiamo procedibile d'ufficio una qualsiasi violenza alle donne che in linea di principio astratamente possiamo ritenere concepibile tecnicamente come un fatto, come giustamente dice il collega perché dobbiamo educare la società in questo senso o il mondo, o i maschi, non lo so noi rischiamo in diversi casi, non in tutti ovviamente di violentare una seconda volta la volontà della donna perché ci sono nell'ambiente particolarmente familiare degli equilibri sottili che spesso sono alla base di queste violenze ma sono anche nella mancata conoscenza e autocoscienza della valenza di queste violenze. Allora, solo il 17% delle donne violentate in famiglia o che subiscono violenze, diciamo meglio perché in famiglia sono molto spesso non stupri anche se ci sono anche gli stupri ma ci sono tipi di violenza dalla psicologica ma quella anche fisica, non indifferenti solo il 17% lo riconosce come un crimine Allora, questo è un fatto culturale non può essere un fatto che noi imponiamo con un obbligo di procedimento penale che noi sappiamo essere un'ulteriore violenza sulle donne è un problema culturale e su questo ci deve essere l'impegno del sistema e vorrei spezzare una lampada una, scusate, una lampada una lampada, no una lancia sulle istituzioni Allora, io rappresento qui un'istituzione istituzione dell'avvocatura noi come commissione per le pari opportunità sin dal 2006 abbiamo un protocollo di intenti col dipartimento di pari opportunità della presenza del Consiglio dei Ministri che sino all'anno scorso era più che altro come dire mirato a salvaguardare un po' l'attività professionale delle avocate cercando di trovare sponde, strumenti legislativi o regolamentari per dare un sostegno all'attività delle avocate l'abbiamo rinnovato l'anno scorso una volta rinnovato il Consiglio a fine 2010 e nel confronto col Dipartimento dove abbiamo trovato tante donne peraltro e quindi forse anche questo l'avere da tutte e due le parti una rappresentanza femminile insomma consapevole allora abbiamo dato un'impronta diversa a questo protocollo e abbiamo inserito questa finalità che è quella della promozione di una strategia integrata di prevenzione contrasto e rimozione delle discriminazioni ivi comprese tutte le forme di violenza contro le donne in quanto intese come gravi violazioni dei diritti umani e fattori di ostacolo al conseguimento della parità di genere nonché di sviluppo e implementazione di reti locali per la rilevazione e la presa in carico dei relativi fenomeni è sicuramente una novità una novità nel senso che abbiamo concepito con il Dipartimento la opportunità di rendere consapevoli soprattutto i giovani colleghi e le giovani colleghe della necessità di formare avvocati con competenze trasversali su questo versante per poter dare il Dipartimento l'ha chiamata una task force di avvocati che difendono le donne e questo ci è pure piaciuto e in base e in attuazione a questo protocollo abbiamo prodotto sui fondi del Pongas che riguardano l'occupazione giovanile che aveva a disposizione il Dipartimento l'anno scorso abbiamo prodotto lo studio di un modello formativo multidisciplinare per giovani avvocati con medio di 5 anni di iscrizione all'albo che abbiamo sviluppato quest'anno nei mesi di marzo aprile maggio qui a Roma abbiamo formato 80 giovani avvocati delle quattro regioni dell'obiettivo convergenza dei fondi del Pongas e quindi Sicilia Calabria Puglia e Campania è stata un'esperienza importante che ha dato tra l'altro a questi giovani che io poi mi sono ritrovato in varie occasioni di convegne eccetera sul territorio una prima di tutto una speranza anche di lavoro perché il dipartimento adesso ci ha detto che vuole nella rete dei centri antiviolenza vedere di fare un discorso anche di sperimentazione di questa formazione di questi giovani per vedere appunto di iniziare a creare una sensibilità particolarmente forte nell'avvocatura rispetto a questi problemi noi sappiamo che ormai in Italia abbiamo un femminicidio ogni due giorni e quindi non stiamo parlando dei 400 casi violenti ma stiamo parlando degli femminicidi quindi delle uccisioni delle donne e siamo passati l'anno scorso era uno ogni tre quest'anno è uno ogni due non lo so se l'anno prossimo dovremmo aspettarci uno ogni uno e però la situazione da questo punto di vista ha bisogno di un approccio di sistema e devo dire però che iniziando a lavorare su questi temi a livello nazionale abbiamo trovato non solo ovviamente la vitalità e la capacità del sistema dei centri antiviolenze delle associazioni del volontariato soprattutto delle donne che sicuramente rappresentano un punto fermo nel sistema italiano ovviamente abbiamo situazioni situazioni sul territorio di eccellenza e di diciamo di minore efficacia però sicuramente è una rete importante il dipartimento la sta tra l'altro valorizzando e vi do qui un'anticipazione che ho saputo la settimana scorsa a Turino durante un convegno sempre sulla violenza di un progetto DAFNE dove c'era la dottoressa De Marco dirigente proprio per il settore violenza del dipartimento la quale ci ha detto che ci sono i fondi per fare la nuova indagine Istat quindi il prossimo anno dovrebbe essere dedicato a recuperare i dati perché effettivamente questo è un problema noi non solo abbiamo pochi dati ma abbiamo dati disomogenei c'è i tratti di violenza e le associazioni li raccolgono in un certo modo le procure sono in grado di darli in un altro modo i tribunali non li sanno dare se non per processi aperti o definiti per cui alla fine cosa succede succede che c'è il rischio di avere da una parte duplicazione degli stessi casi e dall'altra invece di disperdere una serie di casi che appunto o non arrivano da una parte o si perdono in un meandri nei meandri dei passaggi per cui effettivamente noi non abbiamo dati certi abbiamo quelli fondamentalmente che ci vengono appunto rappresentati e poi quelli che leggiamo ormai sui giornali che sicuramente sono più attenti e allora questo per dire che cosa per dire che noi abbiamo noi tutti e credo che chi è qui sicuramente avrà la sensibilità giusta per questa materia perché se no uno non ci spreca le ore a parlare di questi argomenti perché dobbiamo cambiare una cultura dobbiamo prima di tutto stracciare questo velo di omertà ma dobbiamo far capire alle donne che spesso sono le nostre clienti che subire una violenza non può mai essere un qualcosa di normale perché capita anche questo ma che soprattutto c'è una rete di protezione e di sostegno che è in grado di sostenere la loro denuncia perché i problemi noi lo sappiamo sono quelli di un processo che comunque con maggiore o minore sensibilità mette in piazza dei ricordi una rivisitazione di un vissuto che uno tende e vorrebbe dimenticare al più presto questo mi sembra talmente evidente e quindi non è facile e allora per fare questo c'è bisogno di un sostegno psicologico di un sostegno sanitario anche perché adesso per concludere vi dirò anche che cosa sul territorio si sta facendo perché insomma abbiamo un po' visto un quadro ovviamente con centri di maggiore eccellenza penso a Milano piuttosto che in Emilia Romagna ma devo dire anche nel nel profondo sud io ho un'esperienza mia in Sardegna con la provincia di Cagliari l'ordine dei medici tutte le associazioni di volontariato la procura il tribunale i servizi sociali ovviamente la provincia il comune abbiamo messo in piedi un tavolo interistituzionale proprio per combattere tutte le forme di violenza alle donne il comitato per opportunità dell'ordine degli avvocati unitamente col consiglio dell'ordine dei medici ha elaborato un protocollo sanitario di accoglienza delle donne al pronto soccorso per i casi di violenza il riconoscimento dei casi di violenza che si sta sperimentando in una piccola asla della Sardegna perché ovviamente nei centri più grossi ha bisogno di un intervento economico più importante e come sappiamo la sanità molti soldi non ce li ha quindi stiamo cercando di sperimentarlo dove c'è maggiore disponibilità così come è stato fatto al Fumagalli a Milano o in Emilia e Romagna piuttosto che in altri centri cioè stiamo e devo dire che per esempio noi abbiamo verificato che da questa sperimentazione i casi la Sardegna non aveva casi di denuncia di violenza sino a due anni fa cioè proprio rarissime trano quando poi magari si aveva qualche omicidio perché anzi femminicidio l'abbiamo avuti anche noi eccetera devo dire che le amiche o colleghe medico dei pronto soccorso ci stanno rappresentando invece l'emersione ma perché perché da una parte si sta facendo formazione al sistema di come deve essere accolto un caso di dubbio di violenza perché il 90% arriva come sono caduta oppure ho sbattuto oppure si è fratturata eccetera e questo è il primo approccio che ci dicono i medici a Vieni così come noi intendiamo per esempio giù in Sardegna fare un lavoro con i medici di famiglia perché sono quelli che più di altri devono essere sensibilizzati perché entrano nelle famiglie quindi entrano nelle dinamiche familiari devono essere sensibilizzati a capire i processi che possono portare a casi di violenza in famiglia per concludere per non essere da meno del collega che ha fatto un suo caso personale io ne faccio uno mio però uno mio personale che è nato a ridosso dell'approvazione della legge sullo stalking proprio da un medico proprio attraverso questo rapporto che abbiamo messo in piedi questo lavoro protocollo che abbiamo fatto con l'ordine dei medici mi è arrivata in studio questa signora neanche tanto più giovane con un ragazzo di 17 anni ragazza madre che aveva avuto la sfortuna di essere fidanzata per due anni con un deprecabile delinquente il quale gliene ha fatto come lei l'ha lasciata gliene ha fatto di tutti i colori dalle minacce verbali a prenderla per cappelli per strada a bruciarle la macchina eccetera e lei ogni volta faceva la denuncia ogni volta faceva la denuncia anche il maresciallo stava in un paese dell'Inter anche il maresciallo aveva capito che insomma questo era proprio un delinquente minacce ti ammazzo non farti trovare non passare per strada per queste notti ti accoltello eccetera questo aveva un terrore è arrivata nel mio studio una donna di 30 38 anni che sembrava una vecchia di 60 e e vabbè siamo riusciti con la collega io faccio scivira con lei e fa penale siamo riusciti a far riunire ben 17 denunce nell'arco di circa due anni che erano disperse presso diversi pubblici ministeri non un unico pubblico ministero e quando quest'uomo è un uomo ha visto questa situazione ha immediatamente capito che c'era un rischio vero allora abbiamo fatto un'operazione da una parte di protezione di questa donna che abbiamo allontanato dal luogo dove si trovava questo signore dopo di che abbiamo fatto l'ultima denuncia perché ovviamente era successo un altro di questi episodi eccependo anche il 612 PIS e non solo lui è stato arrestato abbiamo fatto il processo in primo grado gli hanno dato 4 anni e 50 mila euro di volta di risarcimento d'anni scusate non di molta è stato condannato anche in appello e si è fatto tutti i 4 gli anni li ha finiti adesso praticamente era stato arrestato nel 2009 proprio ecco il tribunale era presieduto da una donna però devo dire anche il pubblico ministero ha immediatamente percepito che c'era una situazione pesante adesso sta finendo la pena ovviamente abbiamo il problema di che cosa fare per evitare quindi capite che non è finita cioè mi spiego ecco perché dico è un sistema che ha bisogno di un supporto che non può essere limitato al processo non può essere limitato al momento del caso ma deve essere un supporto della società che anche tra l'altro tende a recuperare queste donne che nella maggior parte dei casi sono donne annullate sono donne che fanno una fatica enorme a rimettersi in un circuito di normalità perché sono fatti che segnano allora però ecco vi ho voluto dare questi elementi per dire che si può fare come diceva qualcuno si può fare e bisogna però che ci armiamo tutti di buona volontà tutti assieme senza pretendere primogeniture perché poi si sa che poi ci sono i vari ambienti ma io faccio così io faccio così credo che ci sia bisogno di tutti l'avvocatura ha una grossa responsabilità ha bisogno su questo versante di formarsi approfonditamente di dare un servizio ai cittadini e soprattutto alle cittadine alle donne che si rivolgono a noi in questi momenti così difficili e di dare anche un sostegno e un aiuto al sistema quindi alle istituzioni perché una delle cose per esempio che noi abbiamo rilevato era la scarsa capacità dei medici del pronto soccorso non tanto a individuare il fatto sanitario no? cioè perché come dire la possibilità che ci sia un abuso per esempio che la caduta non sia una caduta non sia una violenza un medico diciamo che è abbastanza in grado di percepirlo però di fronte a una come dire a un approccio della donna della vittima che nega tutto e non sia in grado di farlo emergere chiaramente anche il medico si trova in una situazione di incapacità e allora da lì tutti i dubbi ma io cosa sono sono un pubblico ufficiale quindi devo denunciare io cosa devo fare allora lì a insegnare quali sono appunto i casi in cui c'è una procedibilità d'ufficio quindi è un obbligo e quali casi che no a chi è il caso di rivolgersi e quindi a quale sistema mettere insieme per aiutare chi per primo ha l'approccio alla violenza compresa le forze dell'ordine perché poi anche lì ci sono dei grossissimi problemi però io credo che questo si possa fare e credo che se l'avvocatura lo fa con una voglia proprio di essere protagonista e non di subire questa situazione io credo che quel ruolo sociale che tanto noi rivendichiamo da tutte le parti in tutte le occasioni per dire che gli avvocati servono beh forse questo è uno dei modi per rappresentarlo al meglio i cittadini e forse i cittadini ci riconosceranno anche questo ruolo grazie 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 all'avvocata Pisano che ci ha dato idea del tanto lavoro da fare ma anche della possibilità di metterlo in atto effettivamente io chiederò adesso se ci sono delle repliche da parte del parterre qui dei relatori e dopodiché darò la parola anche al pubblico già ci sono delle persone che mi hanno segnalato la loro disponibilità a parlare e vorrei anche dare la parola al presidente di Telefono Rosa che è qui con noi questa sera e ci darà una testimonianza viva che nasce da tanto tempo e quindi ha visto un'evoluzione di tanti anni quindi prima di tutto chiedo ai nostri relatori se hanno da aggiungere qualcosa ma dunque dopo aver sentito queste storie con questi dati così allarmanti devo dire che quel che posso dire dal mio punto di vista di studiosa di storia di persona che prova a fare questo mestiere così difficile nello storico e quindi un po' a ricostruire i fili della memoria la cosa che mi ha colpito in particolare era proprio diciamo questo questo dato sulla difficoltà del diciamo da parte delle vittime di violenza e delle donne di riconoscere proprio la violenza come tale se subita all'interno dei contesti familiari e quindi la difficoltà anche di rompere con i legami familiari perché denunciare ciò che avviene all'interno delle famiglie presuppone diciamo la consapevolezza di andare a disarticolare un nucleo con tutta quella serie di ricatti morali di ricatti psicologici che poi vengono messi in atto penso ad esempio non sono un'esperta ma penso ad esempio al caso dei reati di pedofilia cioè quando la violenza è il minore a subirla che non ha nemmeno voce per poter esprimere i propri diritti e rivendicarli l'altra cosa che mi ha colpito erano i dati le considerazioni che si facevano prima a proposito della lunga durata di questa cultura giuridica che definisce lo stupro quasi come una sorta di diritto dell'uomo sul corpo della donna e attraverso il corpo della donna un messaggio implicito di conquista di un territorio se nei contesti bellici oppure di appartenenza diciamo di appropriazione di un territorio non è un caso che gli esempi citati diciamo da Ovidio alla Bibbia si rifacciano a quella cultura giudaico-cristiana che da sempre diciamo definisce la donna come oggetto e questa questione della diciamo del senso di colpa che dovrebbe gravare sulla donna vittima di abuso e che la rende diciamo così particolarmente incapace di poter riconoscere l'abuso e di poterlo di poterlo diciamo di poter uscire fuori da questa da questo stato di senso di colpa queste considerazioni sulla cultura giuridica mi hanno fatto pensare anche perché poi si citavano appunto le sentenze della Corte di Cassazione mi hanno fatto subito pensare a quel che accadeva nell'Italia del dopoguerra quando si apre la stagione dei processi contro i criminali di guerra fascisti che vengono portati in giudizio dinanzi alle corti straordinarie di Assise che erano degli organi giudiziari straordinari istituiti dalla nuova Italia repubblicana per diciamo così celebrare processi per il cosiddetto reato di collaborazionismo ci sono ci sono stati moltissimi di questi processi molti dei quali finiti in Cassazione io ricordo in particolare alcune sentenze di Cassazione che si riferivano diciamo così allo stupro subito da partigiane durante la resistenza nelle caserme nelle camere di tortura fasciste ne ricordo in particolare una che ho citato anche nel libro una sentenza della Cassazione del 1947 in cui chiamata a riesaminare una condanna all'ergastolo per un militare delle brigate nere di una caserma dell'ufficio politico investigativo di Reggio Emilia cioè uno dei reparti di polizia straordinari che operavano tra quelli della Repubblica Sociale italiana sul territorio accusato di collaborazionismo per aver fatto violentare sotto interrogatorio da parte di alcuni suoi militi militi sotto suo comando una partigiana una partigiana di 16 anni che riportò da quella violenza delle conseguenze enormi dal punto di vista fisico ovviamente ma anche dal punto di vista morale soprattutto e nella sentenza si legge esplicitamente che quella violenza non costituiva un crimine una sevizia particolarmente ferata come veniva definita da un articolo del decreto del decreto di amnistia del 1946 non costituiva una sevizia particolarmente ferata né un crimine di guerra ma soltanto un'offesa all'onore e al pudore della donna anche se essendo una partigiana e quindi avendo vissuto in promiscuità con altri uomini durante il periodo della guerra clandestina diciamo che questo crimine poteva essere considerato un crimine minore perché la donna era e questo diciamo è un esempio della cultura giuridica che le donne con la quale le donne hanno fatto i conti negli anni del dopoguerra tanto per diciamo così dare un dato su quella che è stata la continuità dello Stato nel passaggio dal fascismo alla Repubblica quella continuità garantita anche dai magistrati che avevano fatto carriera durante il regime fascista e che soprattutto in Cassazione e che si ritrovarono a giudicare considerandoli quelli illegittimi i cosiddetti reati della guerra partigiana che ovviamente non erano contemplati come azioni di guerra legittime dal codice Rocco che allora era ancora in vigore e ovviamente questa cultura ha avuto una lunga durata se ancora nel nel 96 come si diceva poco fa lo stupro è stato definito un crimine contro la persona e non contro la morale quindi decisamente ecco forse ragionare sulla sulla questione della cultura giuridica sulla lunga durata dei fatti della nostra storia e sulla incapacità anche del nostro paese di fare i conti con il proprio passato e sui diciamo così sui vuoti di memoria che questo paese ogni tanto ha perché ogni tanto forse si dimentica la la storia del passato e è incapace di riflettere sul presente proprio a causa di questa di questo deficit della memoria potremmo potremmo dire grazie c'è una replica da fare ora o vogliamo ascoltare prima qualche intervento uno spunto sulla riflessione che stiamo facendo insieme su questa idea un po' provocatoria di procedibilità d'ufficio è implicitamente riconoscere che le donne hanno bisogno di protezione e protezione che oggi non hanno perché se noi immaginiamo che un reato nei confronti di un minore ha la procedibilità d'ufficio lo so ma è riconoscere che c'è bisogno di questo perché se no non arriveremo mai ai numeri veri la verità vera è che se non obblighiamo la magistratura ad agire tutte le volte che c'è una notizia di reato il fenomeno continuerà ad essere un fenomeno sconosciuto per la maggior parte dei casi questa è la mia opinione personale volevo proprio perché mi ha stimolato l'inquadramento che ha fatto l'autrice dal punto di vista storico io credo che quello e così rispondo per la seconda volta anche al collega io credo che dal punto di vista proprio sociologico oggi è cambiata la violenza perché la violenza che giustamente si diceva questa storia anche giuridica così lunga di sottomissione della donna e di possesso quindi dell'uomo era appunto l'esercizio di un potere su un oggetto di potere oggi la violenza si esplica nella gran parte dei casi soprattutto quelli che leggiamo perché magari quelli che non leggiamo appunto c'è sicuramente ancora una componente di questo genere ma si esplica nei confronti della donna che si libera della donna che esercita la sua individualità e la sua autonomia ed è in quel momento perché tanti ex perché perché in quel momento che l'uomo che ritiene di non poter più esercitare il potere con l'affetto con l'amore allora usa l'unica arma che evidentemente conosce quel genere ovviamente di uomo l'uomo violento o anche l'uomo che non appare violento in primo esame ma poi che tale si dimostra ed è la volontà non tanto di imporre ma di difendersi io non lo posso permettere l'uomo non posso permettere a te di liberarti dal vincolo in cui io decido se io ti lascio è un conto ma tu non puoi lasciarmi lasciamo perdere pugliali perché innamorati eccetera sono tutte stupidaggini chiaramente che nessuno di noi sta ad ascoltare quindi è proprio c'è questa trasformazione che sta avvenendo proprio perché comunque la maggior parte delle donne si libera lavora cerca la propria autonomia la propria realizzazione indipendenza ed è questo nella paura poi dell'uomo quindi di perdere nel rapporto di coppia il suo predominio che oggi si sviluppa maggiormente la violenza perché non c'è io credo che ormai abbiamo poche giovani coppie in cui la donna possa ritenersi sottomessa all'uomo nella società moderna possiamo ancora pensare a generazioni passate ma le nuove generazioni stiamo vedendo le i femminicidi sono quasi tutti quasi la totalità su giovani ragazze o giovani donne le donne di 60 della mia età e 60 e passano anni difficilmente vengono uccise vengono uccise quelle di 20 30 40 anni allora questo è secondo me la trasformazione patologica a livello sociale che sta avvenendo sulla quale quindi c'è un intervento ecco perché io sono d'accordo con chi appunto all'inizio ha detto sarebbero gli uomini a dover ascoltare più no queste nostre riflessioni più belle donne che le vivono sulla propria pelle perché non lo so in alcune parti o in quale quantità tutto questo sia come dire consapevole e invece noi dobbiamo farlo emergere dobbiamo far emergere questa nuova dimensione della violenza alla donna perché forse è anche il modo di far difendere la donna di renderla consapevole di come si deve difendere senza bisogno che qualcuno gli faccia il processo senza che lei lo voglia chiuderei alla dottoressa Maria Gabriella Muscatelli di essere di venire cortesemente purtroppo non abbiamo un microfono da portare c'è anche c'è posto la presidente di Telefonorosa voi credo tutti sappiate di cosa si tratta vorrei semplicemente dire questo io ho avuto il piacere di leggere di avere a disposizione degli atti di un convegno che si è svolto nel 96 a Roma organizzato dal comune di Roma sulle donne un convegno molto articolato molto approfondito interessante c'era anche un intervento della dottoressa Muscatelli diceva questo nel 96 stiamo di fronte ad un naturalmente sto riassumendo in parole mie molto brevemente siamo di fronte ad un aumento di problematiche intorno alla violenza che viene subita dalle donne siamo purtroppo in un momento di congiuntura difficile dal punto di vista economico e questo favorisce un rompere degli argini come se in momenti di difficoltà quando c'è meno lavoro le persone gli uomini stanno più in casa sono disoccupati sono inquieti e c'è quindi un riflesso che va a dare questa luce di tragedia più che mai naturalmente noi tutti stiamo vivendo nel 2012 una crisi purtroppo ben più profonda più lunga e quindi questa questa cosa ecco chiedo comunque alla dottoressa di darci una sua riflessione anche su questo punto grazie io voglio solo dire che il telefono rosa è nato nell'88 quindi è passato attraverso le leggi del 96 e del 2000 sulla protezione o l'allontanamento del violento come uso dire fino ad arrivare allo stalking lo stalking è l'ultima battaglia che insieme a Paola Lattes qui presente e avvocato abbiamo portato avanti per diverso tempo e vi dirò che eravamo arrivati quasi alla soglia dell'approvazione quando è caduto il governo e per noi è stato un momento drammatico io però qui vorrei vedere il problema della violenza sulle donne da un altro punto di vista scusatemi qui siete tutti avvocati il telefono rosa è composto da avvocato psicologo e volontario ma mi scusi la maggior parte voglio dire il tema che si è finora svolto è soprattutto grazie grazie io sostengo questo che accanto alla punizione ci deve essere la prevenzione se noi non educhiamo uomini e donne donne e uomini a rispetto l'uno dell'altro noi non arriveremo a nulla e quando io oggi dico che la violenza la combatteremo solo quando questa platea sarà piena di uomini e piena di donne non credo di dire niente di nuovo siamo tutte convinte però non riusciamo ad ottenere che questo avvenga allora chiediamoci il perché il perché è fin da bambini che fin dalla scuola non dico elementare ma dalla scuola materna che noi dobbiamo portare avanti l'educazione a rispetto dell'altro forse tra vent'anni avremo effettivamente la parità e rispetto uomo donna donna uomo stiamo lavorando tanto stiamo lavorando tanto e cercando di aiutare le donne perché le donne quando sono sole spesso si sentono sole specialmente nella violenza all'interno delle mura domestiche perché noi abbiamo parlato di stupro per carità la donna da uno stupro non riesce più ad uscirne fuori è difficilissimo ma vogliamo parlare della violenza all'interno delle mura domestiche vogliamo parlare della violenza economica vogliamo parlare della violenza psicologica guardate che queste sono violenze che distruggono la famiglia e in più c'è una violenza della quale si parla poco ma è la violenza assistita dei figli è tre anni che noi ne stiamo facendo oggetto di una cerca spero di poterla pubblicare quanto prima e vi assicuro che è una cosa che fa venire i brividi noi abbiamo una casa di accoglienza in questa casa di accoglienza che gestiamo per conto del comune di Roma naturalmente abbiamo donne con bambini è successo quest'estate e continuo a raccontarla a tutti perché a me ha veramente sconvolto la cosa entra una mamma con due bambini di 11 e di 9 anni il maschietto di 11 è un bambino un po' così ci accorgiamo subito che ha dei problemi abbastanza forti le nostre psicologhe hanno iniziato un percorso una mattina bisticcia con un altro bambino della casa per una crostatina l'operatrice si avvicina e riceve un bel morso sul braccio non siamo rimasti sconvolti più di va tanto scusatemi ma questa forma di violenza da parte dei bambini siamo abituati la cosa che mi ha sconvolto è la sorella che ha detto all'operatrice stai calma vedrai che è tale quale papà tra due minuti sarà finito tutto e questa è una cosa credetemi che vi ha portato sempre di più a dire che solo attraverso l'educazione noi potremo arrivare forse a una perfetta parità aggiungo questo e poi vi lascio perché è tardi e tutti quanti forse abbiamo voglia di tornare nelle nostre famiglie che spero che siano tranquille serene come lo è stata la mia per 50 anni il telefono rosa tra l'altro non per dire il telefono ma per carità come noi siamo presenti in tutti i tanti ma ci sono altrettante associazioni valide come la nostra noi abbiamo sviluppato all'interno nostro un nostro modo di ascoltare la donna non è solo l'avvocato che l'ascolta ma accanto all'avvocato c'è la psicologa e credetemi abbiamo avuto dei risultati notevoli se non altro il fatto che quando esce dalla stanza dove è stata ricevuta dalla psicologa e dall'avvocato deciderà poi lei in piena autonomia se fare la denuncia o non fare la denuncia perché io sono convinta che se la donna è supportata la denuncia la fa se la donna è sola e si sente sola non la fa quindi più che la procedibilità ed ufficio non è assolutamente poi ognuno la pensa come crede però credetemi se noi diamo molta più aiuto alla donna forse riusciremo ad avere molte più denunce da parte della donna la donna si sente sola si sente sola con i propri figli quindi io concludo qui dicendo lavoriamo tutti quanti insieme ma insieme anche agli uomini io voglio vedere più uomini interessati a questo problema perché mi sembra che questo è il problema delle donne non è un problema delle donne ragazzi è un problema sociale che va affrontato come tutti i problemi sociali da tutti quanti io qui chiudo vi dico che il telefono rosa è presente in tutta Italia se avete bisogno di noi noi veniamo gratuitamente grazie vorrei chiamare qui da noi al microfono o se in grado di avere una voce molto tonante chi ha chiesto di intervenire c'è una persona che sì sì ci sono due persone e poi una terza per esperienza professionale per esempio lo divido per la famiglia dal 1994 credo che continuamente per i famigli o per i famigli o per i famigli o per i famigli la prima problema deve essere sicuramente un'altra con un'ora perché è più facile di risarmi di chi soprattutto nelle violenze sessuali e rispetto fa violenza di ormette all'extravomunitare quindi non è un po' l'opera di ansia la prima problema che non aveva ieri è proprio quella dagli altri concorrenti che non è cambiato perché sono i primi a fare la seconda violenza facendo pressione per non far denunciare per non far la lingua di canti i decisi di andare la seconda riflessione che diceva prima che diceva 1996 non è più considerato contro lavorare ma contro la persona io raggiungo che solo al 2007 da dove c'è la violenza da settembre 2007 da dove c'è stata la violenza di scuola non ci sono misure alternative alla detenzione di carcini questo è vergognoso il provvedimento doveva essere introducjato molto prima perché ci sono molti casi in cui la donna che ha denunciato si è ritrovata il violettatore sotto calda che magari era anche uscita dal settembre del 2007 sono solo 5 anni questa è la seconda della seconda nuova la terza e anche forse riuscivano un po' più la vedete anche di carattere processuale ci sono in questo caso il gruppo testo di un'obbligazione che non sembra anzi quasi mai un'obbligazione professionale riesce a conservare quella coerenza che prevede la legge che è necessaria perché sia considerata credibile se ci troviamo in fronte e questo è tutto che questo caso in contraddizione che c'è spesso il gruppo dicevo c'è tendenza a rimuovere quello che è accaduto e quindi c'è l'incontradizione e non diventa più credibile di fronte al magistrato subisce la terza volta l'onorenza perché non viene più considerata credibile questo è tutto grazie 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 io non sono un avvocato mi occupo di procedure unesco e di culture tradizionali sono grata all'avvocato d'Antuoni perché ha parlato del codice di Ammurabi dove si parla e si propone una determinata figura un determinato approccio alla donna che è la base sulla quale si fonda la gran parte dei problemi di cui abbiamo sentito parlare stasera perché se la famiglia ti spinge a non parlare se si considera l'extracomunitario più o meno colpevole se la donna non parla non è un semplice senso di colpa è proprio una struttura tradizionale della società le culture tradizionali non sono tutte bene è un dibattito unesco antichissimo quello in cui si dice sì la cultura della produzione di un determinato prodotto all'interno delle culture amazzoniche per esempio produce prodotti tradizionali ma devassa la foresta allora questo è l'approccio secondo me mi piacerebbe che nel parlare con i medici nel parlare con gli assistenti sociali nel fare i corsi di formazione anche a scuola soprattutto a scuola con i ragazzi si parlasse anche storicamente di quello che è del perché una donna non denuncia e penso che non sia purtroppo soltanto senso di colpa ma anche qualcosa un po' più grave si allora io mi chiamo Daniele Teresi e sono una psicologa che la vorrei imparare quindi credo che nulla sono anche una criminologa vabbè però credo che sebbene il tema ovviamente è molto specifico e ringrazio i relatori insomma così vorrei ricordare una cosa secondo me fondamentale proprio fondamentale io lavoro in carcere da più di vent'anni insomma e quello che da un paio d'anni anzi da un quattro anni circa sono stata incaricata di occuparmi degli autori di reati sessuali sex offender e quant'altro dei pedofili eccetera e credetemi la cosa che sconvolge di più a parte che insomma come ci dicono le statistiche in molti casi gli autori di reati di questo tipo di reati nega ma questo insomma fa parte della 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 norm proprio della una tecnica difensiva e senza entrare però nel dopo che significa negare perché ci possono essere anche i falsi diciamo autori di reati insomma quello che invece secondo me va detto e veramente andrebbe portato come una battaglia da dire insomma non c'è rieducazione per cui il rischio cioè dentro al carcere nonostante la legge ci dice che adesso per questo tipo di persone è prevista almeno un anno di osservazione quando praticamente è un lavoro assolutamente che non si può fare perché comunque il numero delle ore che il ministero della giustizia affida ai psicologi penitenziari per svolgere questa attività che poi a questo punto significa osservazione che dovrebbe essere anche ovviamente un momento in cui c'è la possibilità di aiutare la persona a prendere consapevolezza della propria storia o perché anche finito là dentro quando si ritiene vittima perché io anzi questo è un mio modo di lavorare dico ma allora lei è la vittima e quindi su questo ci lavora l'aggancio però quando tutto questo purtroppo non si fa allora va bene la prevenzione va bene l'aiuto alle donne ma secondo me è fondamentale comunque per quelle persone che comunque sono riconosciute autori di reato fa riuscire dal carcere a parte con la possibilità se ci fosse di avere una rete in cui queste persone vengono poi prese in carico comunque in qualche modo si continua a lavorare perché una persona che sta un anno in carcere che ci stia dieci anni non cambia assolutamente niente anzi dal mio punto di vista dal mio vertice sostengo che siccome c'è la negazione che è strutturata proprio poi in molte di queste persone non solo non vedono l'altro che è l'oggetto insomma il soggetto del desiderio o il potere insomma eccetera c'è il rischio che escono dal carcere anche col convincimento di essere vittime e che quindi si devono vendicare quindi il carcere produce veramente mine vaganti e non può altro per così come vanno le cose produrre diversamente e veramente chi sta da questa parte da quest'altra parte è atterrito e conferma che il rischio dell'aumento dell'omicidio cioè a quel punto dell'omicidio è in termini di prognosi secondo me che prognosi sono assolutamente sfavorevoli in questo senso e dico l'ultima cosa che quando così questa è una nota personale quando trovo le persone che mi dicono che sono innocenti e ho difficoltà ad agganciarle dico allora lei è rovinato allora lei è recidivo perché se non sa per quale motivo è finito dentro e non se lo vuole domandare e io le offro questa opportunità di capire che cosa è successo stia tranquillo che se in un posto X c'è qualcuno che fa una denuncia di questo genere il primo ad essere acciuffato e lei ritornerà in carcere quindi lei corre di avere un rischio di recidiva altissima in questo modo in genere aggancio anche le persone però credo che nel progetto nelle vostre proposte veramente bisognerebbe fare molto anche in questo senso spendere tempo e denaro per aiutare anche gli autori di reato perché altrimenti non se ne esce grazie noi abbiamo un tempo limitato quindi diamo voce agli ultimi due interventi io sarò molto breve per lasciarla poi agli altri io volevo dire che quello che ha appena detto la dottoressa è verissimo il problema successivo è che quando poi queste persone escono non solo se la prendono con la ex moglie o la fidanzata che l'ha denunciato ma anche con l'avvocato che peraltro in più occasioni è donna per cui io mi sento dire mo te brucio pure a te tanto so dove ti trovo eccetera credo che questo problema nasca anche da una scarsa protezione che noi avvocati abbiamo proprio perché ci manca anche la specializzazione da parte dell'autorità che ce la dovrebbe dare perché io come il collega lo faccio da tantissimi anni spesso mi trovo a lavorare in casi resi più difficili dai colleghi che mi hanno preceduto per cui magari hanno commesso degli errori per cui la situazione è incancrenita ed è ancora più difficile spesso lavoro con le colleghe del telefono rosa con le quali mi trovo molto bene perché magari ci dividiamo delle situazioni tra il penale e il minorile però io ritengo che fondamentalmente non è solo necessaria la presenza dell'uomo qui che potrebbe essere auspicata e che quindi prevenire significa forse una diversa educazione sin da fanciulli io credo che dovrebbe cambiare anche la nostra opinione perché io mi sono solo sentita dire adesso che siamo qui come donna vi dobbiamo proteggere dobbiamo trovare la forma per darvi il giusto spazio il giusto riconoscimento le quote rosa in politica le quote rosa nei CdA io non le voglio io non mi sento un panda io non voglio essere protetta io voglio il mio rispetto io credo che c'è una grossa differenza tra lo stupro di guerra e lo stupro che viene nelle mura domestiche piuttosto che in strada hanno una cosa però comune che vogliono offendere qualcosa di prezioso che è da sempre riconosciuto alla donna il problema è che la donna non riesce ad ammetterlo con se stesso perché a me se mi pestano i piedi io reagisco però è una fonte culturale che mi viene dalla mia famiglia ma se siamo così tante qui forse non sono sola lo studio anche a noi ragazze rispetto alle nostre madri alle nostre nonne ci aiuta tantissimo quindi forse sarebbe necessario per chi è nei nostri posti istituzionali per riconoscerci una specialità e so che il Consiglio Nazionale Forense in questo ha già fatto dei tentativi per chi è ovviamente nell'università come in parte io mi divido ancora di più sollecitare questa sensibilità nell'ambito degli studenti e ancora ovviamente poi anche nel nostro ambito professionale voi avete citato la Bibbia e io qui chiudo io dico sempre che la Bibbia per me è scritta da un uomo la nostra prima colpa comunque è quella di aver scelto di prendere questo pomo e di averlo fatto mangiare ad Adamo io rivendico uno che perlomeno abbiamo scelto due che lo scemo che se l'è mangiato è Adamo e tre che se si continua così io mi sradico l'albero con tutto il serpente grazie ma io credo che se ci troviamo in queste diciamo così situazioni è perché ci sono dei modelli culturali che sono reiterati costantemente allora noi vediamo costantemente al cinema alla televisione e sono modelli importanti soprattutto per le nuove generazioni perché l'impatto visivo insomma dà un imprinting allora se io fin dalla più tenera età vedo che per affermarmi devo sempre essere nuda mentre tutti gli uomini sono vestiti in tutti i talk show salvo questi se vedo nelle telenoveli che noi siamo costantemente poverine nervose si prendono la sberla ecco questi modelli culturali incidono come ci comportiamo allora abbiamo una generazione per esempio di giovani alcolisti che prima non avevamo perché sono ormai dagli anni 50 in tutti i film vediamo gente che beve è triste beve è felice beve perde il lavoro e beve festeggia ecco insomma si costruiscono anche così i comportamenti quindi adesso mi viene in mente che c'è stata una serie di quattro film programmata fatta da Claudia Mori che doveva essere trasmessi in prima serata proprio su come affrontare in maniera diversa lo stalking eccetera eccetera hanno fatto solo la prima serata il primo film in prima serata io poi aspettavo fiduciosa le altre sparite o presentate a mezzanotte come l'esperienza di dell'Aurentis della signora dell'Aurentis quindi voglio dire i maschi salvo i presenti fanno una guerra molto attiva per opporsi a questi comportamenti diversi e quindi bisogna lavorare anche in questo senso qui solo una battuta per non delegittimare la Bibbia proprio fino in fondo probabilmente il traduttore era un uomo vi faccio solo una battuta voi sapete che la traduzione è il passo dove nella Bibbia si parla della donna che nasce da una costora dell'uomo in realtà la traduzione non è quella perché il passo della Bibbia dice in realtà che Dio divide a metà non crea un pezzo dalla costora ma divide a metà la traduzione maschile del pezzo della Bibbia era che stacca un pezzo dove in realtà Dio ha diviso in due ciò che aveva creato era previsto scusate era previsto la presenza di due politici no? ecco non sono presenti non voglio sapere perché non ci sono però a dirla come direbbe Jung nulla accade a caso chiedo scusa chiedo scusa io perché non ho premesso non ho premesso questo in effetti due regoli non sono stati sono stati in possibilità di partecipare hanno mandato le loro scuse di fatto abbiamo avuto un dibattito molto interessante dove mi sembra che il focus comunque rimanga sul cambiamento che avviene come attraverso la crescita culturale non c'è altro modo passo la parola solamente per il ringraziamento prima Enrico Berlini che insomma era doveroso con una donna dove moderasse logicamente questo convegno poi hai intervenuto a Susanna Pisano a D'Agostino D'Antuoni a Michela Ponzani e a voi tutti che siete venuti qui una parentesi vi ricordo che il libro di Michela Ponzani è disponibile cioè il signor Maurizio per chiunque voglia logicamente ordinarlo parlamentari e criticati affanno questa azione di convegni non per parlare e basta la cosa bella è che ognuno di noi che è qui come una monade possa trasmettere almeno ad altre persone quello che di cui si è discusso questa sera l'unica forza è questa si vedono tanti convegni in cui si parla si parla dopo di che si va fuori logicamente ognuno c'è i propri negozi latinamente parlando siamo qui sia in tanti forse si riesce a fare qualcosa anche solo comunicandolo come diceva giustamente la signora educando non solo i bambini ma anche gli adulti che forse sono recuperabili grazie a voi tutti grazie logicamente a chi ha parlato e alla prossima mi raccomando da segnare logicamente in chiusura grazie Antonio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti